Il Comune della Spezia è anche quest'anno a fianco del premio Lerici Pea, un premio assolutamente d'eccellenza per il nostro territorio. Sì, è molto importante sottolineare il fatto che quest'anno, come gli altri anni, ma con un impegno ancora maggiore dal punto di vista delle strutture e dei finanziamenti, l'amministrazione comunale ha scelto di continuare a promuovere la presenza del premio Lerici Pea qui. Forse lo ricordiamo poco, la nostra terra ha dato i Natali o spiritualità a tantissimi poeti, specie nello secolo scorso. Qual è adesso la situazione della poesia spezzina? Ci saranno talenti o comunque ci saranno sicuramente manifestazioni di interesse dal punto di vista della poesia? Dunque, io vorrei ricordare innanzitutto due appuntamenti che vi saranno subito dopo l'estate. Un primo è che faremo insieme all'Accademia Cappellini, cioè la presentazione degli atti dedicati al poeta Giovanni Giudici, con la presenza di uno dei maggiori storici studiosi di letteratura in campo mondiale, Carlo Ossola, docente al Collège de France. Un altro appuntamento significativo, molto significativo, sarà il fatto che si celebrerà con un apposito convegno la presenza qui del gruppo 63. Il gruppo 63 ha fatto tre convegni, di cui uno a Spezia. Non si era mai approfondito questo aspetto e, a parte Umberto Eco che ci ha lasciato, saranno presenti tutti gli interpreti di quell'episodio. Grandi personalità della cultura, da Angelo Guglielmo, Renato Barili e Alberto Albasini. Insieme a questo vorrei dire che la presenza qui, in occasione del convegno di Nanni Balestrini, uno dei maggiori poeti italiani più attenti anche all'aspetto performativo della poesia, potrà consentire, ci stiamo lavorando, un'occasione più dedicata all'espressione dei giovani poeti e del nuovo modo di fare l'irica, di costruire episodi di poesia più vicino alle sensibilità delle nuove generazioni. Anche Montale si era chiesto se era ancora attuale, se era ancora possibile fare poesia oggi, nel 2016. Che cosa significa fare poesia, essere poeta? Sì, tutti i poeti se lo chiedono, se lo chiedono con una certa apprensione anche. La poesia è un genere letterario molto serio e con una tradizione straordinaria. È una delle ossature, per così dire, della civiltà italiana. Ed è un grande onore poter partecipare di questa epopea, di questa avventura, di questo genere letterario. La poesia non deve mai dimenticare la sua ragione primaria, cioè quella di essere la coscienza inquieta della società, come ogni forma di arte e di ricerca. Tra le forme di arte e di ricerca la poesia è quella sulla parola più ardita. Grazie. Grazie.